Oggi parliamo dell'ossessione delle attrezzature perché vedo troppi video che parlano di oggetti pazzeschi e che tutti vorrebbero avere su canali bellissimi e fatti da persone molto competenti ma che ne parlano in continuazione perché è il loro lavoro e il loro guadagno. Ciao io sono Paolo Sabatini fotografo e videomaker di professione realizzo principalmente spot pubblicitari che sono la mia specializzazione e la mia più grande passione. Prendi tutti questi tipi di video e queste informazioni come un grande contributo per aiutarti a comprendere ma non farti trascinare nella logica se non ce l'ho non riesco a farlo perché ricordati che ci sono video creator che con un solo telefonino fanno cose che altri con attrezzature costosissime non faranno mai nella loro vita. Non farti trascinare e non ostinarti a pensare quale corpo macchina prendere quale ottica o addirittura un bolt per fare dei video pazzeschi. Il tuo pensiero prima di ogni cosa deve essere rivolto alle luci a tutta quella parte tecnica e di attrezzatura che serve a illuminare correttamente il tuo set e comunque prima studia e poi compra. Non comprare softbox almeno per ora impara ad usare luci dirette su pannelli diffusori spendi meno soldi ed impara a illuminare in modo moderno. Paradossalmente se impari come la luce riesce a disegnare i tuoi soggetti i tuoi set potresti usare qualsiasi cosa valuta il daylight la luce naturale del sole per imparare. Guardando qua e là su youtube vedo troppi professionisti che accendono la loro super mega figa torce di marca con l'aggiunta di un softbox quello parabolico un oggetto che ormai è di moda e il set è fatto. Mi viene la pelle d'occa a vedere così tanta impreparazione e superficialità. Non fare lo stesso errore. Illuminare è la parte più difficile di tutto il lavoro perché ormai le camere digitali fanno praticamente tutto da sole e software fanno il resto ma se non sei capace di illuminare nel modo giusto non incominciare neanche e tralasciando che sia scontato che la tua creatività sia di aiuto alle tue storie la cosa che non dovresti mai ma mai dimenticare è di imparare ad usare la luce per fare dei set seri e professionali. E come sempre mi sento di darti un consiglio è troppo facile demandare all'attrezzatura il compito di fare il lavoro per te senza studiare non si ottengono buoni risultati e questo è purtroppo il percorso che molti fotografi e videomaker digitali fanno saltando completamente tutta la storia tecnica che c'è dietro perché tanto c'è la tecnologia che li salva basta leggere un manuale di istruzioni qualche video su youtube ed è fatta puoi dire sono un professionista ti svelo un segreto non è così. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo le solite cose metti un like e ti iscriviti al canale attiva anche la campanella per non perderti i prossimi video ciao alla prossima